Sto gallo che tutte le mattine mi sveglia alle 6 Buongiorno Ma che giorno è oggi? E' il 17 No ci sono i saldi Devo chiamare subito la Lisa Lisa Ora di shopping Andiamo Sì arrivo arrivo Mi preparo arrivo Ok mi sono lavato Ok mi sono pettinato Perfetto Maglietta Pantano E si vola a fare colazione Soppi 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 Ecco Ti pareva essere Luca puliva il bagno Mamma mia questi uomini qui è Così posso appoggiare le mie cose Ecco allora Prendo crema corpo Crema viso Profumo Deodorante L'olio per i capelli Pettine Perfetto ho preparato tutto Ma che capelli ha qua? Sono pronta Ho sistemato anche i capelli Per fortuna Che sembrava uno spaventapasser E ora passiamo all'outfit Mamma mia come mi posso mettere? Questo No Questo no Questo si perfetto Ottimo Ho scelto l'outfit Questo è perfetto Si abbina anche al mio corpo C'è rosso fiorito direi Top Wow Eccomi pronta Wow Chissà Lisa cosa pensa del mio outfit Vado a fare colazione con lei Ah finalmente Chi mi qua in cucina A preparare una buona colazione sana e nutriente Questo Rutella Burda d'arachidi Perfetto Posso portare tutto Ah dimenticavo Rutella burda d'arachidi Ecco qua Giusto perché sono a dieta eh E da bere un goccino di latte di riso E una piccola fettina d'anguria Ci sta Oh Luca buongiorno Uè Ti ha posto? A postissimo Ho dormito benissimo E te? Da Dio Oh ma hai già preparato per il babbo? No Sbaglio ma mia Che sei matto? Ma sei il solito Due Tale padre Tale figlia Buongiorno Lisa Ciao ma che bella che sei Grazie Soffrevo che ti sarebbe piaciuto il mio outfit Colazione? Direi di sì Sì Quanto abbiamo già preparato ieri Che bravo Ehm I cereali Cereali, yogurt Sì Perché se no ci si gonfia il pancino E noi questo non lo vogliamo Vero? Ehm Ora ci mangiamo un yogurtino E alle 10 Una mera Giusto Brava Lisa Ti stai giocando bene? Grazie Ma prego tesoro Mua Bella Ah che bella colazione Sono pieno A me lo dici Mamma mia scoppio Dovevo subito smaltire Dai Sì 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 Facciamo i nostri esercizi Vai Dai Pronto? Pronto Vai soldato Vai Pronto Luca? Prontissimo Via Uno Due Tre Quattro Novantotto Novantanove Cento Grande Ho già smaltito tutto Mi sento magrissimo Oh mi è già venuta fame sai Oh anche a me Stai il figlio Stai padre Stai Ora ci facciamo belle Io mi dico le onde E tu? Io sono a posto Mi ho già fatta le onde La tua ore ti dovevi andare dalla parrucchiera Sì A che ora vai? Verso le 15 Ok Io tanto metto l'ombretto Comunque Lisa domani ti porto dalla mia estetista Bene Sono contenta Oh Lisa siamo pronte per andare Abbiamo preparato tutto Eh sì In due ore e mezza Pechissimo proprio Siamo troppo brave Wow Andiamo a fare shopping Ok Dai vamos Ok perfetto Preso tutto Posso andare Ah le chiavi Perfetto Il telefono La mia vita Ecco qua Perfetto Le airpods Dato che sono in auto Ecco qua Sono ecco qua Gli occhiali Da sole Nello stordito Anche le messi Anche Perfetto Perfetto Ha dimenticato Raga Ci vediamo nel prossimo video Mi raccomando ragazzi Almeno 20.000 like per il prossimo Ragazzi Versus ragazze E seguiteci anche su Instagram Io mi chiamo Lucas.official Io Zanotti Nesco Lisa C'è c'è official Marco.zanotti Spolliciate E dai ragazzi Ci vediamo in un altro video Eeeh Ciao Pertini Ciao 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 Ciao